Io rinuncio ai miei tre minuti di risposta per fare una domanda, e li rovesciamo poi uguali. Uno dei problemi che abbiamo nell'elaborare la proposta della società di pace che vorremmo è il fatto che chi lavora su questo tema ha un'età media molto alta, tranne noi. Quindi volevo chiedere, provare a chiedere ai rappresentanti del movimento studentesco qui in sala, se hanno voglia di raccogliere la mia domanda, alla fine appunto delle risposte se hanno voglia di dirci da loro, come i giovani percepiscono il problema della spesa militare, del militarismo crescente, dell'Italia, dell'Europa, lo percepiscono o non lo percepiscono, se non lo percepiscono come una priorità, cosa possiamo fare nel nostro mondo dell'associazionismo perché se ne parli di più nel mondo giovanile. Grazie.